Sono 41 i sindaci abruzzesi che hanno sottoscritto la lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, in merito alla richiesta di sospensione del provvedimento che autorizzava 11 nuovi pozzi per l'estrazione di gas e di greggio in mare e in terraferma, sotto accusa il documento del Ministro Cingolani che ha dato il via alla concessione di nuovi pozzi per l'estrazione di gas e petrolio, di cui 4 nell'Adriatico. In Abruzzo la concessione e l'estrazione è stata concessa per un punto a largo del Comune di Martinsicuro. Alle contestazioni portate avanti dai sindaci si unisce anche la considerazione del docente costituzionalista Enzo Di Salvatore. Qui si tratta di progetti che non erano ancora giunti a conclusione, si tratta di concessioni rispetto alle quali la legge attualmente in vigore non ha potuto fare alcunché perché la sospensione attualmente prevista riguarda i procedimenti relativi ai rilasci dei permessi di ricerca e non anche alle concessioni. Sebbene c'è da dire che almeno di questi sette decreti via uno sicuramente interessa invece un permesso di ricerca ma questo riguarda il canale di Sicilia. Invece per quanto riguarda il progetto, uno dei progetti sui quali vi è stata la valutazione di impatto ambientale positiva, questo ricade a cavallo diciamo così tra la Regione Abruzzo e le Marche e quindi interessa anche il Comune di Martinsicuro, quindi la provincia di Terra, ma la stessa Regione Abruzzo rispetto al quale però così a scorrere la cronologia degli atti che il decreto via contiene a me non pare che sia stata coinvolta la Regione Abruzzo, cioè sebbene sia stato poi provvedimento notificato alla Regione, al Comune e alla Provincia per la verità la Regione occorreva che esprimesse il proprio parere di competenza, la Regione Marche lo ha fatto e invece la Regione Abruzzo non risulta essere stata convocata, ma questo si scoprirà, a parte che la Regione lo sa, ma si scoprirebbe con accesso agli atti. Visto le battaglie portate avanti nel passato sembra di tornare indietro nel tempo. Sì, diciamo che il tempo si è fermato più che altro all'epoca, si è fermato al 2016 perché lì andammo al voto, non si raggiunse il quorum, ma sicuramente come dire, da quel momento in poi si può dire che si è cresciuta una certa sensibilità del nostro paese al punto che persino la politica ne prende atto e ha deciso, in tempi recenti, di modificare la denominazione dal Ministero dell'Ambiente al Ministero per la Transizione Ecologica assumendo su di sé non soltanto le competenze ambientali, ma anche quelle energetiche, il che dimostra che in realtà almeno sulla carta si vorrebbe andare verso un futuro diverso, quindi la transizione ecologica ed energetica, però questo certo è un passo indietro perché non lascia ben sperare. Quale sarà il prossimo passaggio adesso? Cosa potranno fare i sindaci per bloccare tutto l'Iter? Allora qui sicuramente si potrà fare il ricorso, ma il ricorso lo potrà fare sicuramente la Regione Abruzzo, il Comune di Martinsicuro e la provincia di Teramo.